Buongiorno ragazzi e bentornati su Fortnite, primo video sulla nuova mappa con le nuove città sono con un bellissimo team e vogliono andare al boschetto bisunto quindi andiamo subito qui e voi sotto giù nei commenti ditemi qual è la zona più fruttuosa che c'è adesso in Fortnite qual è la migliore io non ne ho la più pallida idea soltanto che ai pinnacoli pendenti la gente crepa come non mai veramente quindi là lo evito come la peste e adesso andiamo in game e andiamo a massacrare tutti allora tu vai sopra io vado sotto e vediamo di fare qualcosa bello non c'è la cassa ci sono sicuramente altri due team eh si no uno l'ha visto uno uno ma manco io ho trovato la cassa cos'è ma hai venuto con me? era questa buono io ho già una trappola e la metto all'inizio così al limite io ho un escudo trappolozza piazzata qua non c'è più niente dobbiamo pushare andare via si eh io non ho più niente no la safe è dall'altra parte no una pistola si almeno quella se vuoi io c'ho una pistola viola eh e c'ho anche una mitraglietta silenziata verde eh c'ho anche io silenziato vai 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 andiamo davanti è uno sopra montagna attenti eh andiamo verso il benzinaio andiamo bene si stanno massacrando questi qui uh di fronte a me di fronte a me est 95 buono ce n'è un altro a 180 anzi altri due vediamo chi muore uh quanta gente mamma mia atterrati tre raga no no bella oh ma crepa quello mamma mia what on the house what the fuck what the fuck buono io adesso un attimo coprite che devo un attimo sistemarmi che mi hanno dilagnato vedi abbassa un pochettino il microfono perché non ci sento più il microfono è esploso mamma mia non so come mai uh gente 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 raga ho sentito un colpo dal nostro compagno di squadra che va a fagioli difatti l'è morto guardate come muore ma perché perché l'è andata solo salvalo salvalo cioè è morto da solo con uno che aveva prenditi che compagni di squadra no 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 vedi sopra di voi sopra di voi sopra di voi no sconditi tu no sconditi fatti tutti raga fai vai rianima vedi segnalo per anti doping Qua c'è la gente che campera come non so che cosa in ste mappe ormai Che cazzo ci facevano questi qui qua Raga qui se volete ci sono le mitragliette, gli scudini e tutto Mi servirebbe solo una R colorato Venite venite qua c'è la super pistoletta silenziata viola Oh nice Ci sono anche un po' di garze Io non ho più posto per la pistoletta No aspetta prendo le bende sti cazzo Ma se volete tengo io le bende Ce n'è un altro dietro Ma porca vaca sei inceppato È a destra è a destra è qui da me Dietro 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 C'è altra gente quindi E ne arriva un altro È a sinistra a sinistra bravo Nooo Ed eccoci qui ragazzi nel secondo tentativo Sempre qua su Fortnite Stavolta siamo in quattro Siamo già qui a luttare il mondo E come sentite Sono già un po' di compagnieros di squadra Quindi andiamo in gioco Siamo un po' di compagnieros di squadra Siamo un po' di compagnieros di squadra Se volete io qui sono pieno di roba C'è anche una slurp Qui c'è un po' di mare bianco Qui c'è un po' di scudo C'è un po' di scudo C'è un po' di mini scudi da dare C'è un po' di mini scudi da dare Eh sì tieni tieni Io 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 Tieni Vabbè Due scudini 50% Oh laggiù c'è l'aerdrop in mezzo Avete visto in mezzo No no eh sì ma è una marda Ti fucilano Eh ti fucilano Allora qua da me però c'è il camper Vedo qualcosa di blu Vedo la R con l'ottica Io provo a fare tutto il giro e vado all'aerdrop Vedo se riesco Ma c'è pure la cassa B Eh vai piglia la cassa Cos'è sta roba oro Cecchino leggendario Eccezionale Vi lascio giù questo Cecchino leggendario vero B No c'ho lo scaracca leggendario Ah Ecco Così di next Aspettate che Mone Vuoi darvi a me? Le 25 Dobbiamo correre Dobbiamo correre Dobbiamo correre Via Cos'è che vuoi? Le posso correre la 25 Le mini scudi Coordinati Lo vissi Lo vissi Lo vissi Lo vissi Lo vissi Lo vissi Il minato Ok uno gli ho levato tutto lo scudo eh A uno gli ho levato tutto lo scudo C'è tipo 30 di viti almeno anche Ciavolo Dobbiamo volare Siamo a metà E siamo nella parte veloce anche Eh sì Le sono tre qua Terra Medikit spigliate il medikit e via proprio C'è un altro scudo dentro la casa Mi ci lascio questo Ciao Medikit Mi serve? No dai prendilo Prendilo Io lascio le bende Ce l'ho 10 bende C'avevo Vabbè le prendo io Ne ho 15 così Sopra 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 Come freccia Ho beccato Ne ho tirato 32 di scudo C'è un altro scudo dentro la casa Eh 240 Fu ovest Sono morto I'm dead A terra A terra Buona Vai morti Mi avete spazio Senta fermati Uh Scusa per viola Oh Medikit Vai 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 Sono due sono Sono pure due Di medikit Ragazzi Trovate un lanciapuff Non lanciapuff Non lanciapuff Non lanciapuff Ma non è che c'ho tipo 16 colpi di arrazo Bella Eh sì Ragazzi un petto labbra Eh sì Fatti i colpi per lo sniper Break this bai Altri colpi per lo sniper Easy Qua Colpi di R Buono buono apri tutto Cazzo Buono Scudini Raga Prenditeli Simo Scudini Tengo io Tengo io scudini Occhio Mi è perata Da sud Mi sembra Eh sì Da sud d'avest Wow Sicilio viti Albero Sud-est anche Sud-est Una terra Silvia Prendi subito gli scudi Tieni E' anche te 80 colpi vieni qua vieni qua su da me mamma c'è uno che ci sta girando fa cosi guarda fa cosi b via ci chiudiamo assi di 300 per cento 85 mi serve un mini scudo una terra perché è rimasto soffeso quel cazzo di un altro a terra buono buono mica questo sarebbe un bel lanciapuffi servirebbe eh non ce l'ho cavolo eh ce l'abbiamo una dietro eh si ci abbiamo di fiat dietro la collina si stanno curando quei maledetti no ci abbiamo gente si vi attento che quello lì è un fortino attivo c'è uno dentro lo so lo so vai 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 dentro vai dentro ho fatto cadere però dentro ho messo le trappole col trampolino raga andarla col trampolino stanno arrivando col trampolino raga grande meme dove stavano quelli oh cazzo qua da me uno è qua sul trampolino raga ok uno ferimento dove stavamo uno prima e crepa vittoria grande così eliminazione tripla e doppia mamma mia vedetemi di quel easy b io ne ho tre ok ne ho atterrati un botto io non sei io sei bene bene così cavolo e così ragazzi si vince vittoria reale non è importante le kill ma il supporto della squadra tutti quegli atterrati devastanti quindi io vi saluto vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao